Il libro che vorrei presentare è Medioevo sul naso di Chiara Furgoni, un libro che apre una prospettiva completamente nuova rispetto alla nostra vita quotidiana. Noi infatti siamo abituati a considerare tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo, ma anche tutto quello che mangiamo, come qualcosa di normale, banale e scontato. In realtà non è così, perché sono il frutto di un preciso processo storico. Un preciso processo storico che l'autrice in questo libro vuole far emergere, presentandoci quelle che sono le invenzioni medievali che hanno segnato e segnano tuttora la nostra vita quotidiana. Per esempio per noi è normalissimo indossare gli occhiali, andare all'università, leggere un libro o mangiare con la forchetta, ma sono tutte invenzioni introdotte nel Medioevo. E questo libro quindi ci parla di una storia, tra virgolette, nascosta, molto interessante e che appunto dà un significato diverso e nuovo alle azioni che compiamo ogni giorno. È un libro che consiglio a tutti.